Allora ragazzi, domani vi porterò per un giro a Portoguaro. È una città molto bella, sicura e soprattutto molto verde. Quanta acqua! A proposito di acqua, adesso vi porto a vedere l'idrovora che protegge tutta Portoguaro durante gli allagamenti. Ma come? L'idrovora non esiste più. E se piove come facciamo? Tranquilli, ci penso io. Cosa state facendo? Portoguaro ha una nuova idrovora che protegge la città, ma è invisibile e se venite con me ve la farò vedere. Proprio qui sotto c'è la nuova idrovora! Ma quindi? Siamo al sicuro? Sì, solo se rispetterete le sette regole della bonifica. Venite che vi dico quali sono. Regola 1. Fermare l'urbanizzazione selvaggia. 2. Rispettare le regole della compatibilità idraulica. 3. Accordi con i comuni. 4. Mantenere le portate preesistenti all'edificazione. 5. Recuperare gli scogli a cielo aperto nelle aree residenziali. Regola numero 6. Pulizia di fossi e scoline. Ultima regola. Estendere a tutti i comuni del Veneto i piani delle acque. Dove state andando? Dovete fare una foto con l'antico salvatore di Portogruaro. Nonno mio! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.